Chi l'ha detto che il mondo è in mano agli uomini? Sfogliati. Sono qui per questo. Siete tutti qui per questo. Il fascino può ferire. Può comprare soltanto il mio corpo e il mio tempo. Roberta, Fabrizio, mio fratello, però tutti lo chiamano al freddo. La passione come il fuoco può cambiare tutto, può bruciare tutto. Mi stanno per farsi le guerre e tu ci finirai in mezzo. Arriva la serie culto della televisione italiana. Romanzo criminale. Da giovedì 14 marzo alle 21. Su cielo. Grazie.